Carlotta Anatoly al concerto del primo maggio, una delle tante donne, quanto è importante, quanto è stato bello oggi questo sodalizio femminile? Ma diciamo che io penso che una cosa così bella probabilmente non mi ricapiterà mai più perché Sabrina è una mia grandissima amica e insomma siamo salite sul palco, siamo state vicine, abbiamo cantato partigiano davanti a una piazza come questa il primo maggio ma non lo so, mi sento molto che è proprio una questione di valori a volte, hai la sensazione che questa piazza ti restituisca la sensazione che è tutto possibile, ho una piazza attenta, mi sembra molto forse anche diversa dalle piazze di altri anni, giovani e molto attenti, molto interessati e coinvolti anche una programmazione a me sembra diversa dal solito come primo maggio, anche più poetica e che si arretta bene il mio figlio Senti, finora qual è l'artista che ti è piaciuto di più? Non lo so guarda perché ho seguito e non seguito alcune cose perché come vedi un po' bambini, un po' da mangiare, un po' i cane no ma secondo me è intanto la prima volta che c'è un'orchestra sinfonica, aspetta mi stanno facendo un'intervista con questa coppia non lo so io comunque sono un amante di Vinicio Capostela quindi aspetto a voi, va bene grazie mille